La tecnologia laser ad alta intensità BTL sfrutta l'interazione tra la biostimolazione e la stimolazione fotomeccanica, intervenendo in maniera mirata sulla cellula per far sì che i tempi di riparazione a livello tessutale siano ridotti il più possibile, velocizzati al massimo. Inoltre, un'azione molto importante di questo laser ad alta intensità è quella di intervenire sulla regolazione del dolore. Infatti già dalle prime sedute riusciamo a ridurre notevolmente l'intensità del dolore. Questo laser riesce a derogare una potenza di 12 Watt e con questo possiamo lavorare sia in modalità continua che in modalità pulsata. L'ampia gamma di programmi preimpostati all'interno del macchinario ci permettono di intervenire in maniera molto efficace su diverse problematiche, quindi sia a livello tendineo, sia a livello muscolare che a livello articolare. Altra caratteristica molto importante è quella che ci permette, variando alcuni parametri del laser, di riuscire a creare ex novo dei programmi personalizzati a seconda dell'atleta e del tipo di patologia in questione.